A Teramo la delicata vicenda relativa alla delocalizzazione della centrale Enel nel quartiere Cona ha subito un cambio di programma essendo risultata necessaria la via, valutazione di impatto ambientale. Terna ha infatti proposto la collocazione di due nuovi tralicci provvisori per continuare con i lavori di interramento dei cavi. Una situazione che ha suscitato perplessità e preoccupazione da parte dei residenti ma anche da parte dell'opposizione comunale per questo motivo il vice sindaco nonché assessore ai lavori pubblici Cavallari ha annunciato che presto si regherà a Roma col senatore Luciano D'Alfonso per avere un quadro più dettagliato dei lavori. Ma più che polemiche diciamo degli approfondimenti che tecnicamente sono anche giusti da parte dei cittadini perché i cittadini ovviamente vedono i lavori che vanno avanti e che molti dubbi possono arrivare nel momento in cui si effettuano i lavori. In questi giorni abbiamo preso appuntamento con il Mite grazie al senatore D'Alfonso e mi incontrerò proprio per verificare la problematica della via che è stata un po' evidenziata da Terna. Devo ricordare che la nostra convenzione è fatta con Enel e non con Terna per cui voglio dire noi dovremmo dialogare con Enel. Ma nello stesso tempo andiamo a vedere se ci sono delle problematiche particolari o se invece può essere semplicemente una questione solo temporale di attesa di un'autorizzazione che dovrebbe arrivare nel più breve tempo possibile e quindi poter considerare poi successivamente la problematica conclusa. Il progetto di delocalizzazione, di spostamento della cabina primaria di trasformazione dell'energia elettrica di Enel che passa da una parte all'altra della strada è un problema che è stato di per sé accettato nel 2017-2018. Quindi voglio dire noi portiamo avanti una problematica, un progetto che fu condiviso in primis non solo dalla regione che ha poi messo i fondi Masterplan per poter finanziare da tutti i soggetti, da tutti gli interlocutori compreso il comitato di quartiere della Cona che in qualche modo ritenne che questa delocalizzazione seppur riduttiva rispetto al progetto iniziale di spostamento verso Gattia rappresentasse un miglioramento qualitativo sia della centrale che della vita dei cittadini. Devo dire che nel momento in cui sarà spostata la centrale il quartiere della Cona potrà ovviamente avere all'interno del quartiere una piazza, una gora che oggi è l'attuale centrale elettrica di trasformazione.